Bulldog francese. Li juniores nel pre-ring, signori. Pappi. Allora, vediamo un po', un giro, allora un giro tutti insieme, il Cavaliere in coda con il Bulldog, quindi Sibri Anaschi, ciao ciao, Cavaliere Bulldog francese. Allora, il Presidente Drudi va alla premiazione, al terzo posto, ciao ciao. Allora, al secondo posto, Bulldog francese, vince Sibri Anaschi. Allora, Bess Juniores, il giudice dalla Danimarca, Inse. Ah, ok, già nel ring. Allora, al secondo posto, Bulldog francese.